Noi dopo una pausa di poche settimane abbiamo l'onore ancora una volta di collegarci con il grande Edoardo Margaretto che cerca Lionel Messi e si sta avvicinando a lui, dove sarà questa volta? Edoardo a te la linea a Barcellona! Sì, sì, buongiorno, eccoci qua, eccoci qua al mare Magnum di Barcellona, buongiorno, buongiorno Silvio, buongiorno Falso Nueve, è stata veramente una notte molto lunga ma sapevamo che potevamo trovare la barca dove un giorno arrivò Messi dall'Argentina ed eccoci qua per Falso Nueve col capitano che è venuto direttamente dall'Argentina, come è stato il viaggio, che è successo? Che è successo? Che è successo? Leo, Leo tu mi devi lasciare lo viaggio, non mi hai pagato lo viaggio, ti devi pagare lo viaggio, tu non mi hai pagato? Ma signor Marino Marinai, Leo paga, Leo pagherà? Paga? Paga? Mirai paga come un'altra dinamica, non puoi pagare lo viaggio, dammelo di me Leo, ti devi pagare lo viaggio? Ma un momento, un momento, ma io so che c'è un'altra notizia, che è arrivato qualcuno in questa nave, cosa può dirci? Cosa puoi dire? Leo, tieni tu prima qui e se non mi dà lo dirai, non te lo devolvo. Ma come? Mi dice che è arrivato il cugino di Leo Messi dall'Argentina? Sì signor, lo tengo io, lo tengo io nella cacciaforte, qui è tancato e se non mi dà lo dirai, non te lo devolvo. Allora, mi faccia fare delle parole, signor Marino, a questo cugino. Ah, vuoi parlare a vedere? Vuoi parlare? Vale. Ehi, venga qui, venga, venga, parla, parla e dìle a Leo che mi dà lo dirai. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, ci ha salutato e adesso vorrei domandare che è successo, che succede in Argentina, perché è venuto lei? Sono preoccupato? Io conozco a Leo desde il piccino, di Rosario, del barrio di Potrero, jugando a la pelota. No sappiamo dove sta, siamo tutti molto preoccupati, la famiglia, i amici, i peroni, anche i cani sono preoccupati lì in Argentina. Ma allora, per alleggerire un po', si potrebbe cantare un piccolo tango così? La canzone favorita di Leo è di sempre. Adelante. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien, sentir che è un soplo la vita, che venti anni non è nada, che fa obrirla... Che passa, Dottor Lobo? Che passa, Dottor Lobo? Che passa, Dottor Lobo? Che passa? No, no, che passa? Ma che cosa è successo? Il tango lo conoscevi, Aldo? Mazzalorso? Volver. Volver. Ma che diceva il cugino di Messi? Perché a un certo punto non si è capito niente. Mazzalorso che stanno tutti preoccupati. Anche i cani addirittura. Anche, 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 anche lo ferro.